Black Friday in avvicinamento, Cyber Monday pure. Non ci raccontiamo storie, è quel periodo dell'anno in cui possiamo risparmiare tanto, ma anche spendere troppo e senza un vero senso. Diamo un po' di ordine con questo video prima di arrivare alla settimana prossima quando ti farò un altro video con tutte, secondo me e secondo il mondo dei viaggi, le offerte migliori per il Black Friday, ma prima di tutto cerchiamo di fare un po' di ordine dove trovare le migliori offerte, come trovarle e questo è molto importante. Ti darò tre consigli pratici, secondo me di grande valore, ti darò un altro consiglio secondo me importante, poi rimani fino alla fine perché in chiusura ti darò tre anteprime, tre sconti, tre promozioni che ci sono già e che non puoi perdere perché secondo me hanno un bel valore davvero per quanto riguarda il Black Friday. Comincio facendomi un attimo di autopromozione, ma perché? Perché è un consiglio pratico importante per il Black Friday, Cyber Monday e in realtà per tutto l'anno. Il canale Telegram viaggiovero le offerte. Se ti iscrivi, è completamente gratuito, ricevi ogni giorno 4 o 5 offerte. Durante i 10 giorni, 7, 8, 10 giorni tra il Black Friday, delle Black Monday perché comincerà tutto il 17 e finirà tutto il 27, quindi sono 10 giorni pieni, ti passerò anche più promozioni, tutte riguardanti il mondo dei viaggi. Andremo dai voli ai trasporti, ai bagagli, quindi valigie, trolley, i servizi di viaggio, noleggio auto, insomma di tutto di più, sconti per soggiorni in hotel, ci sarà un po' di tutto. Quindi iscriviti perché quello è un canale in cui durante il periodo intorno al Black Friday e Cyber Monday ci sarà tanta roba, passerò tanti sconti e tante promozioni, quelle più importanti e quelle di cui per alcuni, non per tutti, approfitterò anch'io. L'iscrizione se hai Telegram è molto semplice, altrimenti se non ce l'hai scarichi l'applicazione di Telegram e il link per iscriverti lo trovi qui sotto in descrizione. Il consiglio pratico numero due è quello di iscriverti, se è ancora in tempo, a tutte le newsletter dei servizi che più ti interessano. Mi spiego meglio. La maggior parte delle volte quest'anno e l'anno scorso hai volato con Wizz Air, iscriviti alla newsletter di Wizz Air e fai in modo nel periodo del Black Friday e giorni prima di controllare spesso la tua email, perché ti arriveranno sicuramente o ti arriverà una o più mail da Wizz Air, dalla newsletter di Wizz Air con gli sconti giornalieri. Io mi ricordo l'anno scorso ad esempio Ryanair, se sei una persona che vola molto con Ryanair, Ryanair faceva per il periodo del Black Friday, la settimana in cui c'era il Black Friday, uno sconto diverso ogni giorno e durava soltanto quel giorno lì, però te lo annunciavano sia tramite newsletter e tramite sito. Quindi secondo me piuttosto che andare tutti i giorni, che poi ti puoi scordare sul sito, o se ce la fai va bene anche così, piuttosto è meglio ricevere una mail che annuncia per i giorni successivi i vari sconti, almeno io preferisco così, così non mi scordo nemmeno di andare sul sito. Quello che volevo dire però con questo consiglio pratico è di fare un attimo di mente locale e capire quali sono i servizi, voli, treni, hotel, che utilizzi di più e iscriverti alle newsletter di questi servizi. Faccio un altro esempio, Booking, sono quattro anni, cinque anni che utilizzi Booking per prenotare, non c'è grandi possibilità che utilizzerai altri siti, a meno che non vai sul canale Telegram, viaggiare le offerte e ti passo veramente delle offerte buone per altri siti, però detto questo se vuoi continuare a usare Booking iscriviti alla newsletter di Booking, saranno loro a comunicarti i migliori sconti e non solo durante il Black Friday ma anche durante tutto il resto dell'anno ed è una cosa buona. Quindi anche le compagnie aeree, i trasporti, gli hotel, tutto ciò che ti interessa di più e che utilizzi di più durante l'anno per viaggiare. Ah, lo dico ma non dovrei nemmeno dirlo, tutte queste newsletter sono completamente gratuite. È vero che siamo già iscritti a tantissimo e ricevere altre mail è un po' una rottura, però intanto per il Black Friday, il periodo intorno al Black Friday, ricevili e poi se poi vuoi cancellarti basta sempre comunque un clic. Prima di passare a un altro consiglio pratico lasciami ricordare un consiglio filosofico che faccio tutti gli anni. Siamo nell'era del consumismo, lo so non ti piace sentirlo dire ma ascoltami ti prego poi alla fine ti darò anche tre offerte, non ti preoccupare. Non è che sono in contrasto queste due cose, io ti passo le cose che secondo me sono molto buone a livello di sconto, a livello di promozione, poi però tu devi fare quello che ti sto consigliando adesso, ovvero pensarci, pensare se quella cosa, quell'oggetto, quel servizio ti serve davvero. Purtroppo in un'epoca dove siamo bombardati da pubblicità anche i nostri desideri sono completamente falsati, non ti faccio un pippone lunghissimo, andiamo molto al sodo, fai una valutazione di ciò che ti serve veramente. Noi qui parliamo di viaggi, hai in mente e avevi in mente di andare in viaggio, non so, a Barcellona a gennaio. Bene, aspettare il Black Friday per vedere se ci sono delle offerte di Ryanair, di Wizz Air, di Wailing, eccetera eccetera, è un'ottima idea, se poi però non ci sono comunque prenoti. Ok, quindi è importante capire che quello ti serviva, aspettare il Black Friday per risparmiare 10, 15, 20 euro è assolutamente valido. Se hai bisogno di un nuovo computer, di un nuovo oggetto, di un nuovo zaino, devi ricomprare il tuo parco zaino, il tuo parco bagagli, comprare una valigia della Roncat o della Samsonite, ecco, fare questo investimento per il futuro e già sai che devi rinnovare il tuo parco bagagli, è questo il momento di vedere se ci sono delle offerte. Aspettare questo momento puoi capire che se non ci sono magari è sempre meglio investire anche dopo, però è sempre meglio investire su un prodotto di qualità piuttosto che andare a spendere meno qualcosa che trovi in offerta per il Black Friday che di qualità è veramente infima. Questo è un mio giudizio personale, però quello che volevo dirti è ragiona, pensa un attimo, non ti fare abbagliare dalle mille luci del Black Friday e del Cyber Monday e di tutti i giorni intorno, ma valuta ciò che ti serve veramente da qui a tot mesi per viaggiare per il mondo dei viaggi. È molto importante anche per non ricadere in una spirale di consumismo estremo. Ti sto aiutando adesso? Ti ho aiutato in passato? Ti ho informato? Beh, allora puoi sostenere il progetto Viaggio Vero con un grazie, con il pulsante appunto grazie, una piccola donazione che sostiene il progetto Viaggio Vero, o ancora meglio con il pulsante sempre qui sotto abbonati, puoi appunto abbonarti, sostenere il progetto e avere tanti vantaggi. Non voglio assolutamente toglierti tempo a questo contenuto, quindi se clicchi sul tasto abbonati partirà un video e vedrai tutte le possibilità di abbonamento, sono cinque, con diversi livelli di vantaggio a crescere. Insomma ci sono abbonamenti per tutti, si parte da 99 centesimi di euro al mese, nemmeno il costo di un caffè per te per avere già tanti tanti vantaggi. Quindi non ti resta che cliccare sul pulsante abbonati e scoprire tutti i vantaggi a seconda dei vari livelli di abbonamento e grazie per il tuo sostegno. L'ultimo consiglio pratico prima di passarti tre promozioni che sono già attive per il periodo del Black Friday e Cyber Monday è quello di, se utilizzi Amazon, e immagino che sarai tra quelli come me che andrai ad acquistare qualcosa su Amazon in quel periodo perché ci sono degli sconti importanti, è inutile che ci giriamo intorno, quello che ti consiglio è legato a quello che ti dicevo prima. Vai diretto o diretta sulle categorie che ti servono, non lasciarti abbindolare da tutti gli altri sconti, offerte di oggetti che non ti servono, sono solo voglie in quel momento. In più ci distraggono dal fatto di andare a comprare ciò che ci serve veramente. A me è capitato anni fa di fare la cazzata, scusate il termine ma lo dico tranquillamente, di rimanere abbindolato da altri oggetti che ho poi acquistato, quando sono andato per acquistare quello che volevo acquistare nel Black Friday ho aspettato un paio di giorni e non era più in sconto, rimasto fregato, anche se era ancora il periodo del Black Friday perché non è che tutti gli oggetti sono sempre in sconto per tutto il periodo del Black Friday, quindi se fossi andato diretto, preciso, verso quella categoria di oggetti che mi interessava avrei comprato l'oggetto e intanto avrei speso meno, avrei speso meno perché poi quell'oggetto mi serviva l'ho dovuto comprare a prezzo più alto, ma mi sono anche comprato altre due cose che in realtà sì le ho utilizzate ma mi servivano molto meno, devo essere molto onesto con me stesso, quindi torniamo al discorso precedente. Se vai su Amazon non ti far distrarre, segnati e sappi già in testa che cosa vuoi comprare e diretto a cercare quell'oggetto o entrare dentro le categorie di quell'oggetto per vedere magari se c'è qualcosa di pari valore, di simile che magari costa anche meno e magari a cui non avevi pensato, però nessuna distrazione è diretto sulle categorie e questo il consiglio che volevo passarti per quanto riguarda Amazon. E ora eccomi pronto con le tre offerte che ti avevo promesso. Partiamo da Tropic Fill, tu sai quanto io ami Tropic Fill, quanto io ami gli oggetti di Tropic Fill, dalle scarpe agli zaini che sto valutando di comprare, alle giacche, a tutto quello che è all'interno del catalogo e dello shop di Tropic Fill. Bene, Tropic Fill ha già attivato ed è già attivato oggi lo sconto del 50% su tantissime cose. Ripeto, scarpe, facciamo un giro, al momento attuale c'è il guardaroba, se hai già lo zaino e non avevi comprato il guardaroba è scontato. sulle Geyser, Grit H-Dry, quelle che sono waterproof. Lo zaino, il vecchio zaino, il primo modello di zaino uscito, quello in assoluto che è uscito per primo, che è ancora un buonissimo zaino, cioè lo Shell più il guardaroba scontato. Poi abbiamo le mitiche Canyon, infatti sto pensando di ricomprare un paio di Canyon, anche se è inverno e non mi servono adesso, però le mie sono le più vecchie. Cioè il modello che ho delle Canyon sono il primo modello che ho acquistato, però a 55 euro sono veramente regalate quel tipo di scarpa. L'N60 Jacket, ci sto pensando, è il giaccone invernale, non mi convince molto sulle braccia che rimangono scoperte, hanno una giacca interna per coprirle, non lo so, vediamo. Poi c'è tanti altri oggetti ragazzi, c'è anche il nuovo zaino, quello più da trekking diciamo, lo Shelter, però insomma c'è Dune, le mie scarpe, le Dune, anche le Dune ho bellissime. Insomma c'è di tutto e di più, a 50 euro invece di 100 euro è il 50% di sconto ragazzi. Quindi il primo, la prima diciamo promozione, la prima offerta che vi passo è quella del Break Friday fino al 50% di Tropic Fill. Non sto neanche a scriverlo, tutti i link che ti passo adesso li trovi qui sotto in descrizione, i tre link delle tre offerte. Abbiamo parlato di Amazon, su Amazon trovi il Bitmamba, lo zaino che ho eletto il mio zaino migliore per questo 2023 nella categoria 40, 25, 20, è molto soggettivo ma è il migliore, ha il 10% da applicare di sconto già ora su tutte e tre i modelli, il Pro, l'Essential e il Pro TSA Look che costa 74,97 il più caro, il 60 euro diciamo l'Essential e 67 euro il Pro. Che differenza c'è? Te lo ridico ancora. Il Pro TSA Look, partiamo da quello più caro, ha sia la presa USB il lato ma anche il lucchetto appunto TSA. Il Pro ha soltanto la presa USB e non ha il lucchetto TSA, l'Essential non ha né la presa, come puoi vedere, come puoi vedere l'Essential, vediamo se riesco, in realtà Essential come vedi non ha la presa USB. Quali ti consiglio? Allora io ho il Pro TSA Look, ma come dico sempre, secondo me il lucchetto TSA su uno zaino che hai sempre con te serve relativamente. Quindi se dovessi ricomprarlo, io ho comprato quello, ma se dovessi ricomprarlo ti consiglio assolutamente il Pro. Il che significa che costa 67 euro e con lo sconto del 10% ti sconta appunto 6,70 euro e vai praticamente a 60 euro. lo paghi 60 euro e secondo me è un ottimo prezzo per quello che io reputo il miglior bagaglio per quanto mi riguarda nel 2023 della categoria 40-25-20 che va bene per tutte le compagnie aeree. Ripeto, tutte le compagnie aeree low cost e diciamo quelle tradizionali. Chiudo con l'offerta di un noleggio auto, Viaggiare Rente, ti lascio il link qui sotto, perché ha, vabbè, Viaggiare Rente è un rentacar che ha sia soluzioni plurimensili, sia selezioni a lungo termine, sia auto a breve termine. Diciamo che vale per tutti i noleggi auto possibili e immaginabili. Comunque abbiamo uno sconto che si chiama Black Week 23 per quanto riguarda il noleggio plurimensile, ma abbiamo anche lo sconto per quanto riguarda il noleggio a breve termine e lo sconto, il codice te lo passo qui sotto è Black Friday e hai degli sconti, hai degli sconti importanti. Con quel codice che ti passo e che trovi qui sotto in descrizione vai fino al 45% di sconto sui noleggi a breve termine, quindi i noleggi anche per vacanza. Spero davvero che questi consigli ti possano essere utili nella prossima settimana, nella settimana che parte già da venerdì questo, venerdì 17 e finisce poi il 27 di novembre. Mi raccomando, questi sono due o tre consigli pratici più le offerte che ci sono già al momento che reputo più importanti, insomma ti ho cercato di mettere un po' tutto insieme in questo video introduttivo al Black Friday. Se ti è tornato utile in qualche modo allora un pollicione verso l'alto, aiuta a crescere il canale, mi fai tanto tanto felice e per questo già ti ringrazio. Se non sei ancora iscritta o iscritto, beh è questo il momento di farlo, trovi il link qui sotto per iscriverti senza problemi. Qui a fianco stanno passando altri video utili e niente, io ti saluto e buon Black Friday!